Immaginate di dover chiedere, a metà di una risposta, scusa, qual era la domanda? Oppure, come ci sono arrivato qua a dire quello che stavo dicendo? Immaginate all'improvviso, durante il lavoro, una chiacchierata, o una partita da PlayStation, di avere una folgorazione, e dire devo pagare il bollo da un sacco di tempo, me lo segno, e poi non segnarlo. Immaginate di far fatica anche solo a studiare una cosa semplice, o di procrastinare fino all'ultimo per ridurre una settimana di lavoro a quell'ultima notte prima della scadenza. Immaginate, infine, di scoprire a più di 30 anni di soffrire di un disturbo che poteva essere individuato senza grossi problemi quando ne avevate più o meno 12. Insomma, provate a mettervi nei panni di qualcun altro, qualcuno che soffre di un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Io sono Stefano Bramante, medico-chirurgo, specialista in psichiatria e psicoterapia, dottorando di ricerca in neuroscienze presso l'Università di Torino, e insieme a Lorenzo Massucco, specializzato in comunicazione e storytelling, diplomato alla Scuola Holden di Torino, abbiamo scritto Brain on Fire, ADHD, persone fuori dagli schemi. In questo podcast cercheremo di spiegare a tutti che cos'è l'ADHD, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le problematiche che comporta, in modo tale da aiutare un numero sempre più grande di persone nel comprendere che cosa sta succedendo nella loro vita o nella vita delle persone a loro vicine. Nella puntata di oggi faremo quello che succede in qualsiasi conversazione all'inizio. Si fanno le presentazioni, un po' come siamo presentati io e Lorenzo. Allo stesso modo noi vi presenteremo l'ADHD e dobbiamo partire, purtroppo, da una parte un pochettino più noiosa, che è quella delle definizioni. Sarò aiutato in questa puntata da Michael, un ragazzo di 31 anni affetto da ADHD, che porterà la sua esperienza e quindi ci permetterà di capire che cosa vuol dire nella vita di tutti i giorni avere delle difficoltà nell'ambito dell'attenzione e cosa vuol dire avere delle difficoltà di iperattività e di impulsività e come queste impattano sulla sua vita. Essere distratti può essere che tipo quando hai detto ti chiederò è il momento in cui ho avuto l'attenzione su quello che dicevi, prima stavo pensando a impostazioni del computer. No, però sul serio, se mi ripeti la domanda... È importante subito chiarire quello che è un argomento un po' spinoso. Disturbo, neurodivergenza. L'approccio all'ADHD infatti può essere duplice. Da un lato si può avere un approccio più di tipo medico, sanitario, psicologico e quindi occuparsi di ADHD, parlare di ADHD come di una condizione di interesse medico. E quindi mi sentirete spesso parlare di disturbo, perché sono un medico e io mi occupo di queste specifiche caratteristiche, disattenzione, iperattività e impulsività, quando queste caratteristiche creano dei problemi nella vita dei miei pazienti. Ma parlare di ADHD e parlare di neurodivergenza è assolutamente corretto. Secondo un approccio più sociale è più corretto parlare di neurodivergenze. Cioè l'ADHD, esattamente come l'autismo e i disturbi dell'apprendimento, sono delle neurodivergenze. In questo secondo ambito non si utilizza un approccio medico, ma si utilizza un approccio più di tipo statistico. Cioè noi immaginiamo che all'interno della popolazione generale le capacità di attenzione e concentrazione, l'iperattività e l'impulsività si presentano in uno spettro. Bene, la maggior parte degli individui ha delle precise caratteristiche di attenzione, iperattività e impulsività e noi definiamo questi individui neurotipici perché rispetto a quella che è la media statistica sono all'interno della maggior parte delle persone e poi abbiamo una serie di individui che hanno delle caratteristiche di attenzione, concentrazione, iperattività e impulsività che sono leggermente diverse. Da un punto di vista statistico, le loro capacità di attenzione sono differenti rispetto a quelle degli altri e quindi parleremo di neurodivergenza. Abbiamo da un lato le persone che sono estremamente concentrate, dall'altro le persone che hanno difficoltà di concentrazione. Bene, questo secondo gruppo è quello a cui appartiene l'ADHD. Partiamo quindi dai sintomi. Come dice l'espressione stessa, sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione. Abbiamo pazienti che hanno una difficoltà nell'ambito dell'attenzione e della concentrazione. Che cos'è l'attenzione? L'attenzione è la capacità di dirigere la mia coscienza verso un determinato stimolo. In questo momento la mia attenzione è rivolta verso il microfono, verso lo schermo che ho davanti. La capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, quella è la concentrazione. Chi ha l'ADHD ha una difficoltà in questo dominio, in quest'area. Dire che l'ADHD è un disturbo da deficit dell'attenzione di fatto è già un errore. Dovremmo più propriamente dire che l'ADHD è un disturbo del controllo dell'attenzione. Chi ha l'ADHD infatti non ha sempre un'attenzione deficitaria, non ha sempre una scarsa capacità di concentrarsi, una scarsa capacità di restare sulle cose, che siano lo studio, un libro, un film o una conversazione. Chi ha l'ADHD ha una difficoltà nel controllo della concentrazione e di conseguenza può risultare che per alcune cose è estremamente concentrato o concentrata, va in una condizione che noi chiamiamo di hiperfocus, addirittura eccede nella sua capacità di concentrazione, a tal punto che non si rende conto del tempo che passa, non si rende conto che deve andare in bagno, che è ora di mangiare o che aveva un appuntamento, cioè eccede. Dall'altro lato, in altre situazioni invece, non è in grado di mantenere l'attenzione nel tempo. Tipicamente le condizioni in cui il paziente va in hiperfocus sono quelle che destano particolari interessi e piacere, oppure quando il paziente o la paziente sta provando un sentimento molto forte, che può essere la rabbia, la paura, l'ansia, che può essere ho la scadenza domani, quindi ho un'ansia molto 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 forte, una grande preoccupazione, e quindi per sei ore in fila riesco a concentrarmi. Mentre lavoro, mentre sono a supermercato, mentre faccio la lavatrice, mentre stendo il bucato, mentre lavo i piatti, qualsiasi cosa che non sia super interessante è un motivo per me per distrarmi. Principalmente, sì, se una cosa mi interessa riesco a starci concentrato molto più a lungo, delle volte rimani concentrato su quella cosa, è anche troppo lungo senza nemmeno volerlo, il tempo passa e tu non te ne accorgi, e sei sempre facendo quella cosa lì, no? Ho fatto il trasloco da poco, e ho dovuto mettere a posto il piano cottura, e attaccare la presa, e mi è sempre piaciuta la roba elettrica, no? E sono stato lì, e ho rifatto la presa tipo 12 volte, perché la volevo perfetta con il... Per tutte le volte usciva un... E allora taglia di nuovo il filo, perché non era proprio perfetto la lunghezza delle cose di rame che entra nell'affarino. Allora taglia ancora un pezzo, poi taglia tutto troppo, allora scoperto un po' del cavo, finché a farlo tutto proprio preciso preciso, dovevo fare cena, erano le 6 e un quarto, e tu boh metto a posto il coso, così poi faccio cena, erano poi le 11 e mezza, ancora dovevo mangiare. Allora poi mi sono accontentato di com'era. Vi aggiungo un ulteriore elemento di complessità. La nostra attenzione, la nostra capacità di concentrazione, non sono soltanto rivolte verso quello che succede al di fuori di noi. La nostra capacità di attenzione e concentrazione è anche rivolta dentro di noi. Cioè io in questo momento ho davanti a me il microfono, lo schermo, dei documenti, questo è quello che c'è al di fuori di me, quello che io chiamo il piano extratensivo, c'è poi un mondo interiore, che è quello di quello che io provo, dei miei pensieri, delle mie sensazioni, cioè un piano interiore, quello che succede dentro di me, il piano intratensivo. Noi siamo in grado di regolare la nostra attenzione sul piano extratensivo e sul piano intratensivo. Perché a seconda di come si manifesta la DHD, ci sono dei pazienti che fanno più fatica nel mantenimento della concentrazione verso l'esterno, e quindi ad esempio si distraggono molto frequentemente per rumori, per stimoli visivi, per quello che succede intorno a loro, e ci sono invece pazienti che si distraggono più frequentemente perché si perdono nei loro pensieri, si perdono nel loro mondo interiore. Nel primo caso sono pazienti che si descrivono frequentemente come se fossero dei cuccioli di cane che si distraggono molto velocemente per ogni stimolo che arriva, che sia stimolo sonoro oppure uno stimolo visivo. Nel secondo caso invece sono pazienti che tendenzialmente si incantano, passano magari dei minuti, delle ore a fessare un punto perché nella loro mente un pensiero ne apre un altro che poi ne apre un altro e vagano nella loro mente e la risultante esterna è poi quello che viene chiamato daydreaming. Cioè sono persone che appaiono agli occhi degli altri come dei sognatori, come delle persone che hanno sempre la testa tra le nuvole e questo navigare tra un pensiero e l'altro che porta al daydreaming viene chiamato mind wandering. Sì, in realtà cioè quando mi perdono i miei pensieri è perché magari hai detto qualcosa che mi ha fatto scattare un pensiero e può essere una cosa che dici tu, può essere il rumore che sento fuori, può essere... Se ci sono altre persone per me è molto difficile proprio sentirti. I rumori, proprio gli altri non riesco proprio bene a isolare. Cioè ti sento, ti ascolto se mi concentro, se riesco a concentrarmi altrimenti sento le conversazioni un po' di tutti e magari c'è qualcuno che dice qualcosa di più interessante di quello che mi stai dicendo te quindi io ascolto loro. Le volte che vado in un ufficio non lavoro. Cioè sono lì, parliamo e perdo tempo perché magari devo fare qualcosa però devi andare lo stesso... Vabbè che ci devo andare in una volta nei morti di papa e non devo andare spesso. Però quando ci vai diventa... Delle volte magari metto lì e cammino perché non riesco a stare fermo senza fare niente però non posso lavorare perché la gente mi parla eccetera o mi vengono lì mi distra... Stai facendo una cosa vengono lì ti chiedono e tu poi ricomincia a fare quello che stai facendo. Già di base è difficile anche se non avessi la DHD con il mio tipo di lavoro però specialmente con la DHD dove magari mi sto annoiando è un pezzo noioso un pezzo che io oh mio Dio riducono di farlo. Non dobbiamo però vedere chi ha un disturbo dell'attenzione come se fosse effettivamente un cucciolo di Golden Retriever paciocone che si distrae e si gira ogni volta che sente o vede qualcosa. È un modo semplicemente per portare a voi un'immagine ma se lo traduciamo poi nella vita di tutti i giorni di una persona che ha la DHD l'attenzione si porta dietro tanti altri aspetti. Essere disattenti vuol dire non riuscire a stare dietro a nulla che sia di tipo burocratico-amministrativo non riuscire a rispettare le scadenze vuol dire distrarsi in continuazione quando le persone vi parlano e quindi dover chiedere di ripetere le cose continuamente vuol dire che se non vi segnate delle cose delle liste in un'agenda in un diario voi non vi ricorderete dei vostri appuntamenti vuol dire far fatica a gestire il tempo nel senso che chi ha la DHD frequentemente ha uno scarso senso del tempo cioè fa fatica a collocare una serie di azioni in uno specifico arco temporale quindi risulta frequentemente in ritardo o al contrario estremamente in anticipo perché consapevole di arrivare in ritardo essere disattenti vuol dire essere disordinati vuol dire che la camera è un disastro vuol dire che il banco quando eravate a scuola era pieno di penne gomme fogli quaderni tutto in disordine ed essere continuamente rimproverati vuol dire essere disorganizzati far fatica a pianificare una giornata pianificare una settimana oppure riuscire a pianificarla ma non rispettare nessuno di questi impegni vuol dire essere dei procrastinatori seriali perché si fa tutto all'ultimo tantissime persone arrivano a sospettare di avere l'ADHD perché sono dei grandi procrastinatori generalmente posti giù finché poi non posso più posticipare e quindi diventa che fai una settimana di lavoro in una notte perché o così o così dipende quando devi proprio quando devi costruire perché il mio lavoro sono un programmatore faccio sia back-end che front-end e ci sono più aspetti del mio lavoro perché ci sono degli aspetti in cui magari devo fare proprio solo roba logica di un certo tipo e quindi utilizzo certe strategie per quando devo farle di solito è quella del lo faccio all'ultimo bene una volta definita l'area dell'attenzione e della concentrazione e aver spiegato come l'ADHD possa dare delle difficoltà in quell'area c'è l'altra parte l'iperattività e l'impulsività essere iperattivi vuol dire non riuscire a stare fermi vuol dire che se sono un allievo che deve stare a scuola mi alzo continuamente dal banco cerco delle scuse per andare al cestino per andare in bagno perché stare seduti per molto tempo mi genera una condizione di fortissimo stress di fortissima difficoltà vuol dire che non riesco a stare seduto a tavola vuol dire che non riesco a partecipare a una conversazione di gruppo per un periodo di tempo lungo senza aver bisogno di alzarmi e di uscire bene questo vuol dire essere iperattivi ma l'iperattività non si manifesta sempre e solo in una maniera così eclatante essere iperattivi in alcuni casi vuol dire anche solo muovere continuamente la gamba sotto il tavolo oppure giocherellare sempre con qualche cosa tra le mani o dondolarsi dalla sedia questa è l'iperattività ma potrebbe darti molto fastidio il fatto di che sono sempre lì che cammino oppure che non sto fermo dipende se siamo seduti ad un tavolo potrei iniziare però potresti notare che il tuo bicchiere non sta fermo e si muove perché io ballo con la gamba e magari tocca il tavolo e il tuo bicchiere trema e c'è l'acqua che se lo riempi troppo esce può essere che magari stiamo parlando e io mi alzo e vado da un'altra parte mi viene un nervoso quando tipo ti prude un prurito devi alzarti e fare se no mi da noia inizio a diventare nervoso e i professori i maestri mi rompevano mi dicevano no stai detto ma io magari mi distraevo per ascoltare perché mi interessavo però non potevo stare lì a guardare loro che camminavano perché mi diventavo scemo e allora facevo altro che poteva essere disegnare che poteva essere scarabocchiare su un libro che poteva essere giocare con i Biro Ranger perché avevo le penne colorate erano elementari guardavo i Power Ranger e quindi le facevo combattere fra di loro scendole sai no combattere una con l'altra oltre all'iperatività ci sono anche i sintomi di impulsività e chi ha l'ADHD è impulsivo che cos'ha interrompe gli altri quando parlano risponde a digettore domande è fortemente impaziente fa tantissima fatica ad aspettare in coda può addirittura in alcuni casi sembrare un po' arrogante un po' presuntuoso nelle conversazioni in pubblico non me ne faccio però nessun problema a dire sempre quello che penso avere le reazioni delle volte può essere un problema come lavoro eccetera delle volte riesci a trattenerti delle volte hai una reazione però non vocale magari guardi mano a una persona oppure prenditene vai dici mi ero ti coglioni me ne vado generalmente lo capisco subito se mi sta sulle palle o meno no lo capisco quasi c'è proprio l'istinto di questo mi starà antipatico allora quando parla quella persona non lo ascolto così evito di farmi irritare da quella persona bene abbiamo definito quindi disattenzione iperattività impulsività e questo ci permette di capire un aspetto importante un aspetto sempre un po' più tecnico un po' più medico che è quello di come si può presentare la dhd perché nell'immaginario collettivo nell'immaginario comune la dhd si presenta sempre con disattenzione più iperattività e impulsività se tutti voi chiudete un attimo gli occhi e pensate a quello che voi immaginate essere un bambino con la dhd tendenzialmente immaginate un bambino che si muove in continuazione e non sta mai fermo perché l'iperattività e gli aspetti di impulsività sono molto più evidenti sono molto più eclatanti e facilmente vengono riconosciuti dagli altri bene quando noi abbiamo la disattenzione più l'iperattività e l'impulsività parliamo di adhd combinato perché ci sono entrambi i gruppi di sintomi però è molto importante dirci che la dhd in alcuni casi si manifesta senza iperattività e impulsività si manifesta solo con disattenzione adhd inattentivo prevalente e sono proprio queste le forme su cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione perché un bambino o più spesso una bambina perché queste forme riguardano più le donne che è disattenta difficilmente verrà riconosciuta come una bambina che ha bisogno di fare una valutazione specialistica perché di fatto non disturba più il bambino iperattivo e impulsivo che crea dei problemi in ambito infantile in ambito scolastico e che quindi viene poi portato alla valutazione dei professionisti era un bambino che era chiaramente con l'adhd e semplicemente l'ignoranza e non ho paura a chiamarla tale l'ignoranza delle persone soprattutto degli insegnanti che dovrebbero essere primo baluardo le prime persone che si accorgono perché si sono accorti perché c'ho le pagelle l'ho ritrovata durante il trasloco le pagelle di quando andavo ad elementare alle medie dietro quando c'era il sunto dell'anno della persona del bambino eccetera dalla seconda terza elementare in poi c'è una diagnosi di adhd ad ogni quadrimestre nessuno mi ha mai mandato a fare questo tipo di incontrollo per vedere se avessi l'adhd o meno si sarebbe capito quando ero in terza elementare perché c'è scritto che mi distraggo che non ascolto che trovo ogni scusa per alzarmi e camminare che era quello di andare a temperare tutte le matite spezzavo la punta per andare a temperare le matite sono scritte tante cose che sono quelle di un bambino di un bambino con l'adhd la bambina distratta che non porta il materiale scolastico che guarda fuori dalla finestra che non segna i compiti e viene considerata semplicemente una bambina un po' pasticciona un po' con la testa tra le nuvole bene sono proprio le forme inattentive prevalenti che devono essere specificatamente attenzionate e questo è un tema a cui io tengo molto perché apre un capitolo molto importante del mondo della dhd ma che non riguarda esclusivamente la dhd che è quello dei disturbi del neurosviluppo nel genere femminile nella dhd così come anche nell'autismo molto spesso noi abbiamo delle pazienti che non arrivano alla diagnosi della dhd perché i sintomi specifici della dhd o i sintomi specifici dell'autismo sono molto meno evidenti molto meno eclatanti e noi ce le perdiamo perché poi nel corso degli anni sono delle bambine che crescono diventano adolescenti diventano adulti iniziano ad arrivare l'ansia e la depressione e ci concentriamo esclusivamente su questi aspetti di ansia e di depressione su degli aspetti di disregolazione emotiva di difficoltà nel rapporto del cibo che in realtà non sono altro che la complicanza di una forma di dhd o di autismo ad alto funzionamento che non sono state riconosciute in infanzia perché è importante parlare di dhd? beh lo dicono i numeri è importante parlare di dhd perché una percentuale significativa seppur minoritaria ma significativa di persone è interessata da questo disturbo e se noi prendiamo i bambini 6 bambini su 100 hanno la dhd questo non lo dico io questo lo dicono gli studi di epidemiologia se voi immaginate 100 bambini quante classi sono? immaginate una scuola elementare immaginate 4 classi composte da 25 studenti bene ci sono 6 bambini che molto probabilmente hanno la dhd se noi vediamo la popolazione dei pazienti adulti invece 3 adulti su 100 meno sicuramente della prevalenza che c'è in infanzia ma anche in quel caso una quota significativa nella vostra vita di tutti i giorni quante persone conoscete che hanno la dhd nelle scuole quanti bambini vengono diagnosticati con la dhd pochi la risposta è pochi e vuol dire che ce ne stiamo perdendo tantissimi e perché ce li perdiamo ci possono essere varie motivazioni ce li perdiamo perché in primo luogo non conosciamo tanto la dhd nella forma inattentiva prevalente quindi ci perdiamo molte bambine o anche bambini che sono distratti non hanno l'iperattività e l'impulsività ci perdiamo tutta una serie di bambini che hanno un alto potenziale cognitivo e quindi sono ragazzi intelligenti che riescono quindi a compensare le loro difficoltà durante il periodo delle scuole elementari e delle scuole medie iniziano ad andare in fatica alle scuole superiori e poi tendenzialmente crollano quando arriva il percorso universitario che richiede maggiore organizzazione nello studio molto più tempo dedicato sui libri con scadenze molto meno ravvicinate rispetto a quelle che siano le scuole superiori e contemporaneamente al percorso universitario tendenzialmente arriva la vita autonoma si va a vivere da soli quindi bisogna gestire una casa e quindi bisogna gestire anche una vita relazionale che è molto più complessa rispetto a quella che si ha quando si è bambini io ho rivenduto i miei libri di prima superiore quando ero in seconda li ho rivenduti ancora nel cielo fanno alcuni anche le materie dove andavo bene quelli di fisica li ho rivenduti nuovi e fisica avevo 10 perché mi piaceva quindi non la studiavo cioè la guardavo il professore spiegava io capivo cosa diceva e prendevo 10 latino invece col cazzo cioè il professoressa spiegava io non capivo una sega e non mi piaceva come spiegava e prendevo 2 sono riuscito a prendere 1 e mezzo una volta perché ho sbagliato la del giorno ho sbagliato la data in genere c'è un botto di tasse da pagare indietro perché devo ricordarmi di fare gli F24 e non li faccio mai poi pago sempre la mora devo ancora pagare il bollo me lo segno è scaduto a settembre lo faccio poi lo faccio poi e non l'ho fatto e ci perdiamo tutti quei bambini in cui i sintomi vengono compensati da famiglie molto presenti per fortuna ci sono delle famiglie molto presenti ma una mamma o un papà che per esempio fanno i compiti con il bambino addirittura fanno i compiti al posto del bambino tutti i pomeriggi a casa e quel bambino in realtà di suo non starebbe mai fermo al tavolo a studiare è una famiglia che compensa la mamma che fa sempre lo zaino al bambino prima di andare a scuola sarà una situazione in cui quel bambino non dimenticherà mai le cose perché di fatto è la mamma che se ne occupa ma poi magari quel bambino che a scuola si segna soltanto la metà dei compiti ma ormai c'è registro elettronico oppure c'è sempre la possibilità di telefonare ai genitori dei compagni di classe ci stiamo perdendo una quota significativa di persone questo è proprio il motivo per il quale abbiamo ideato questo podcast una domanda legittima che molte persone possono chiedersi è perché una persona ha la dhd e un'altra invece non ce l'ha bene la dhd è un disturbo del neurosviluppo che per definizione esordisce prima dei 12 anni quindi è un disturbo che esordisce in infanzia e può avere delle caratteristiche diverse se si presenta anche in età adulta ma per esistere la dhd deve esordire prima dei 12 anni per definizione e che è dovuto fondamentalmente a due fattori da un lato dei fattori di tipo genetico dall'altro dei fattori di tipo ambientale la componente genetica di questo disturbo quindi la predisposizione familiare la predisposizione genetica è fortissima si arriva fino all'80-85% nel contributo dei geni nella genesi di questo disturbo avere una predisposizione genetica significativa vuol dire che spesso se una persona ha la dhd avrà un familiare che ha la dhd o quantomeno un altro disturbo del neurosviluppo esistono anche i fattori ambientali vuol dire esposizione a sostanze tossiche inquinanti fumo alcol quando? durante la gravidanza nei primi anni di vita momenti in cui lo sviluppo del cervello del sistema nervoso centrale dei neuroni delle connessioni tra i neuroni è fondamentale e quindi l'intervento di sostanze tossiche dall'esterno può compromettere lo sviluppo di queste aree e quindi data una predisposizione genetica di base facilitare lo sviluppo della dhd l'unica cosa che mi piacerebbe fare ed è anche il motivo per cui ho risposto al vostro invito di fare questo podcast per fare diffusione e per parlare della dhd perché è tutto quello che io ho passato come studente come persona che cresceva come ragazzo come giovane uomo prima cioè come ragazzo prima ma giovane dopo e tutte cose che potevano essere evitate mi sarei potuto evitare tante situazioni e tanti problemi parlarne di fare in modo che meno persone rimangano ignoranti a riguardo soprattutto persone che hanno un'influenza che puoi essere un medico quando gli parli di sintomi di hd anziché mandarti a fare una visita di hd ti manda da un neurologo che puoi essere insegnanti che quando scrivono valutazioni globali sullo studente quando ci sono tre punti tirano una linea tirano una riga anziché lasciare quei tre punti a caso tirano questa linea e possano investigare e far approfondire la situazione da un professionista perché puoi letteralmente cambiare il futuro delle persone nella prossima puntata parleremo dell'evoluzione della dhd dall'infanzia all'età adulta vedremo come cambia questo disturbo per qualsiasi informazione scrivete pure all'indirizzo dell'associazione adhd piemonte famiglie associate adhd piemonte chiocciola gmail.com alla prossima puntata di brain on fire grazie a tutti Grazie a tutti.